Un deciso dissenso nei confronti delle azioni di protesta programmate dalla Coldiretti contro la Regione è stato espresso dall'assessore e presidente del Partito dei Sardi Paolo Malinchedda. L'accusa mossa al sindacato è che il suo comportamento intacca la formazione di una coscienza nazionale dei Sardi. Secondo Malinchedda non è legittimo accomunare la politica sarda a quella italiana. L'amministrazione regionale ha istituito il pegno rotativo e stanziato 114 milioni di euro a sostegno del reddito degli imprenditori agricoli. Davanti al tradimento nel ministro Martina, che non ha mantenuto le promesse sulle quote di pecorino da destinare all'Unione Europea per gli indigenti, la Regione è una vittima e non un complice. L'identità da difendere per la Coldiretti, afferma l'assessore, è quella del sindacato nazionale italiano, forse l'unico vero sindacato sopravvissuto. Dinanzi alla crisi si guarda bene dall'individuare le responsabilità di Roma. E continua Malinchedda. Chi andò a omaggiare il ministro Martina e a intonargli le lodi matutine e vespertine per una promessa facile facile? Noi o la Coldiretti? La foto parla chiaro. Noi non ci siamo. E adesso si rigira la frittata, prosegue l'assessore. Dopo aver preso uno schiaffo finanziario e morale, essere stati sconfessati malamente dal lord protettore del Parmigiano Reggiano, si pensa di passare lo schiaffo alla politica regionale? No, lo schiaffo è tutto vostro, dice il presidente del partito dei sardi. Malinchedda ricorda come tutti i parlamentari del PD si schierarono contro Martina e conclude. Le colpe degli italiani furbacchioni sono degli italiani non dei sardi e pensare di bloccare le strade della Sardegna per nascondere con una guerra civile tra di noi un fallimento di politica sindacale grande come una casa è veramente e profondamente sbagliato.